Ciao a tutte! Allora, per la gioia di Gerardo, visto che in questa quarantena abbiamo tantissimo tempo, abbiamo deciso di modificare un pochino la nostra casa con dei fantastici poster e l'abbiamo scelto insieme No, diciamo che io non è che non mi fido di Gerardo per quanto riguarda l'arredamento, però lui ha dei gusti veramente particolari però grazie a Poster Store siamo riusciti a trovare, diciamo, due stili insieme Non li abbiamo ancora aperti perché volevamo, appunto, aprirli con voi per l'effetto sorpresa Poster Store è un sito dove ha cornici, un poster mille, poster super bellissimi e scegli che è stato veramente difficile Le cornici hanno un prezzo veramente ottimo, i poster anche, potete scegliere tutte le dimensioni che volete, sia dei poster che delle cornici Ecco qui la cornice, abbiamo preso oro, nero e bianco, perché abbiamo cercato di sistemarle in ogni stanza Questa è bellissima, questa è per la camera delle bimbe Queste qui le abbiamo scelte per il salone Ecco qui, poi ho preso anche i passpartout Questo è stupendo Lo attaccherò sopra la mia scrivania Comunque non vi svelo niente, andiamo ad attaccarli Comunque non vi svelo niente Comunque non vi svelo niente, anzi Comunque non vi svelo niente Grazie a tutti. Abbiamo ultimato anche le ultime cornici, le abbiamo spese. Come vedete basta veramente poco per rendere una parete che prima era anonima, super speciale e di conseguenza creare un arredamento veramente ad hoc. Vi voglio dare due o tre informazioni in più su Poster Store. Intanto vi consiglio di seguirli su Instagram. E poi la cosa che mi è piaciuta moltissimo di Poster Store che oltre a fornire poster e cornici è anche un sito che vi dà moltissime idee su come arredare. Infatti è proprio una fonte di ispirazioni. Sul sito troverete già delle pareti arredate bellissime e voi potrete prendere proprio tutto il pacchetto. Quindi nel carrello vi troverete quello che voi avete visto esattamente nella foto. Oppure potete fare come abbiamo fatto noi che le abbiamo appunto composte a nostro piacimento. Vi ricordo che ogni martedì escono nuovi poster. Quindi già ce ne sono veramente mille mille mille. Ci sono le varie categorie quindi c'è bambini, animali, paesaggi. Ci impazzirete veramente. I prezzi sono onestissimi. Spesso trovate dei poster in offerta a veramente 3-4 euro. Quindi è un sito che vi consiglio vivamente. In più vi lascio anche un codice sconto. Udite udite è un codice sconto del 30%. Quindi tantissimo. Approfittate perché sapete che in genere i codici sconto sono sempre molto più bassi. Invece Poster Store vi ha voluto fare questo regalone. Il codice sconto con tutte le info e le condizioni lo trovate scritto nell'info box. Per quanto riguarda invece le spedizioni e il pagamento state tranquilli. Perché è un sito stra sicuro, stra conosciuto. Poi ovviamente qualsiasi info la trovate sul loro sito oppure potete contattarli tramite messaggio privato sulla loro pagina Instagram. E nulla. Ora vi rimane solo che dare un'occhiata e creare la vostra parete perfetta. Io vi saluto e al prossimo video come sempre. Ciao!